buonasera amici vado a recensire l'ultimo numero di topolino il 3510 uscito proprio oggi primo marzo 2023 me lo sono letto tutto e quindi me ne vanno a parlare allora innanzitutto devo dire che la copertina di corrado mast antono è veramente uno spettacolo con questi toni sul giallo che riprende la topolino che riprende la prima storia scritta da poi vedremo da bruno enna peccato io non amo non amo anzi proprio odio questi strilli no cioè se non ci fosse stata era assolutamente meglio anzi io dico perché le mettete mettetele che ne so dietro le una parte perché la copertina viene in questo modo a mio avviso rovinata ma se come per me anche per altri anche per altre persone vabbè abbiamo dopo subito la vignetta simpatica di silvia ziche che aria tira topolina la topolina dicono che l'appetito viene mangiando magari i superpoteri vengono facendo il supereroe topolino che prova a fare anche lui il supereroe poi abbiamo il interessante sempre diciamo rotocalco recensione di di alex bertani la copertina questa la prima la copertina vedete qui ecco se non fosse in disegno matita di del bravissimo programma stantonio e poi abbiamo le storie servizi allora iniziamo con oggi con il numero 3510 inizio dal primo capitolo del gli evaporati episodio 1 di 5 questo è chiamato il primo episodio la città delle nebbie storia scritta da bruno enna autore che a mi piace molto disegni e chine di davide cesarello colore di irene fornari poi abbiamo il pianeta papero per il pianeta papero nel potere della teca storia di vito stabile disegni e chine di marco e stefano rota colore di giulia castoldi poi ne vedremo una per uno singolarmente poi il terzo episodio il principe delle sabbie nell'episodio di tre su cinque storia di alex bertani e francesco vacca disegni e chine di giuseppe facciotto colore di manuel giarolli giarolli si poi qui c'è l'esordio di un disegnatore su questa storia archimede l'automa autoapprendente storia di giovanni di gregorio c'è l'esordio ai disegni e chine di federico buttice colore di valentina mauri poi abbiamo paperina e l'altruismo zoologico storia di riccardo pesce disegni e chine di massimo fecchi e colore di martina andonova e poi la storia di una pagina scritta di soli disegni e chine di enrico faccini e colore di valentina mauri provare le brezza per la serie minima paperalia allora iniziamo non inizio con la prima storia iniziamo al con la storia così vado da quella che mi è piaciuta c'è meno e poi sapete perché a quella che mi è piaciuta di più allora il principe delle sabbie che pa scusate non lo posso dire che puntini puntini avete capito troppo lunga io a me queste storie non piacciono bravissimo bravissimo se trovo facciotto perché su questo non posso dire niente soprattutto ecco c'è questa chiamiamo la tavola splash con le piramide sarebbe la storia ecco dovremmo prendere un sei cido sei perché dovrei dare dieci disegni però veramente la storia è pallosissima poi a me non piacciono queste storie così troppo lunghe e a me mi dispiace per chi è per bertani e francesco vacca però proprio non per me è l'ultimo posto e gli do un 5 ma prichettricamente ecco è compensata dai disegni molto ripeto molto molto belli di facciotto che è un disegnatore che io non conosco però qui addirittura subentra anche etta beta consumente a free per carità personaggi che io poi amo però la storia ma ripeto qui sono influenzato io dal tipo di storia che io proprio non l'ho mai digeriti egizi sumeri assiri babilonesi romani c'è storia antica proprio non mi è andata mai giù ripeto fatto vedere questo ma ce ne sono altre vedete qui l'ha il dettaglio anche di questa cesta sui disegni non si può assolutamente dirente la prospettiva anche del pavimento è qualcosa di quindi a questo do 5 perché ecco è compensata se si segnerano brutti avrei dato un 3 cioè proprio per ma ripeto è da non giudicare perché sono influenzato io poi passiamo passiamo poi alla andando da qui né dall'ultima l'ultimo posto al arrivare al primo andiamo poi a il potere della teca di il pianeta paperone e qui perché vado qui dal quarto ma tutto perché ripeto come vi ho detto io paperone non è che è un personaggio che amo particolarmente siete però insomma dopo non mi sono impatici se la storia è carina però io dico ecco qui invece quel contrario perché qui la storia è carina la storia è carina c'è anche questo tramezzo con le città italiane murano c'è il ma napoli c'è il ritorno di di amelia di questo l'idea del vetro della teca dell'importanza e quindi molto carina come storia però i disegni sinceramente signori io non lo so ma marco e stefano non so se sono fratelli non so se sono cugini si sono un'associazione a delinquere ma i disegni signori miei fanno voglio usare un'espressione brutta ma avete capito è proprio non mi piace quindi ecco in questo caso però a questa storia do in questo caso dovrei dare un cinque e mezzo ma da un sei perché la storia veramente carina ripeto anche se anche se paperone ripeto però è un personaggio amato cioè non ripeto non è che mi sta c'è e non non è simpaticissimo come non è tra i miei personaggi più simpatici ecco questo questo lo devo dire però ripeto storia molto carina disegni orridi ce lo dico cioè nel senso non mi frusterete ma i disegni orridi va bene poi andiamo avanti andiamo a ovviamente faccio una parentesi poi ci sono interessanti rubriche dopo ecco ancora però di queste storie diciamo il principe sabbi parla del pillodia d'egitto c'è sempre a chi è interessato diciamo che topolino su questo è sempre stata una rivista molto molto attuale con i tempi molto valida quindi su questo io non posso dire niente perché un prodotto che veramente ha sempre dimostrato di essere al passo con i tempi poi a cui ne abbiamo passate adesso andiamo saliamo quindi le storie sono uno due tre quattro cinque e sei quindi al sesto posto abbiamo detto c'è il principe delle sabbie con cinque al quinto posto il potere della teca della serie pianeta di paperone con sei sei meno perché dei disegni sei meno dovrei dargli ma da mondi andiamo poi alla storia che alla città delle nebbie la prima di bruno n questo io dico allora la storia è molto molto bella mi è piaciuta soprattutto qui i disegni sono molto particolari davvero cesarello ma soprattutto veramente i colori di questo giallo nei colori di rene fornari di rene fornari la storia però io dico questo e già lo ho citato in un commento che ho fatto a un altro amico youtuber che ha già recensito questo numero di topolino ma benedetti della panini comics ma perché tutti questi tutti questi episodi ma una volta io vedevo ne basterebbe due puntate io dico questa vabbè una no perché non sarebbe troppo ma due puntate perché tutti questi episodi allo fate che dovete vendere sicuramente sì perché così dopo un po annoia io queste queste serie le farei in due in due puntate massimo tre perché evidente la storia anche carina mi ha ricordato molto di fog di carpenter mi ha ricordato mi ha fatto di pensare anche questo ritorno al medioevo un po anche la serie brandon anche se non c'entra niente brandon di chiaverotti quindi la storia promette bene è una bella storia questa a storia do assolutamente un 7 anzi un 7 e mezzo posso dare perché è messa però potevo dare più ma troppi episodi quando vedi questi episodi mi in puntini puntini perché ma fatene una fatene due master 6 una scusate due massimo tre ma perché cinque episodi va bene molti mi dicono guarda tanto si esauriscono su settimane quindi 3510 11 12 13 14 è finito va bene ok però io la vedo così poi fatemi sapere se sbaglio o dico o dico bene ma è una ripeto una mia opinione però alla storia del 7 già in tutto tra i colori soprattutto quei colori molto mi sono piaciuti perché veramente c'è questa tonalità di questo giallo che è tutto di questa nebbia che poi andate a leggerla di questo tonalità inquietante insomma mi è piaciuto non tanto di cinema proprio i colori disegni e chi ne di che proprio il colore di irene fornari ma la storia è lui bruno enna è un autore che mi piace ho anche avuto la piacere di averlo come amicizia anche in facebook quindi un doppio piacere quindi veramente su questo non posso non posso che essere contento ma ripeto una storia una storia veramente valida poi passiamo al quindi abbiamo detto sesto qui sesto il principio delle sabbie quinto il poter a sé in teca e quarto la città delle nebbie e io terzo ci metto il terzo si diciamo dopo va bene mettiamoci questo provare le brezza l'ultima storia che anche questa io gli do anche questa qui anzi questa non la giudico questa la metto così mi piacciono queste vignette ma questa non può essere giudicata carina dei faccini va bene questo diciamo nulla giudicano quindi facciamo cinque storie perché questa l'ultima vabbè è carina nel senso non è sempre questa introduzione ma non può essere secondo me giudicata poi passiamo quindi al podio diciamo c'è terzo posto la città delle nebbie ecco facciamo prima così di bruno enna poi andiamo al secondo posto medaglia d'argento va a archimede e l'automa auto apprendente questa è una storia metta al secondo posto gli do tranquillamente un 8 perché dono notto perché io amo sapete voi io amo le storie singole amo da queste storie che potrebbe essere tutti considerati impittive ma io invece amo queste storie e ripeto per l'ennesima volta io continuo a comprare topolino perché so che ci sono queste storie mi direte sbaglio sbaglierò però io è così quindi archimede qui c'è l'esodio di questo disegnatore che non conosco federico butti c'è disegni di molto molto carini discreti la storia mi è piaciuta sua e ambienta corta ambientata sul sul mondo degli scacchi e con archimede pitagorico protagonista c'è anche un personaggio e poi ecco c'è il finale anche se è un cameo ma c'è il mio anche se qui è vestito da custode c'è il mio amatissimo paperoga qui non è col suo solito maioni e cuffia rosse ma c'è il mio amico amato paperoga quindi già su questo io dovrei dare uno ma gli do un otto perché insomma ecco la storia molto carina di simbo è riempitiva però a me è piaciuta e quindi io giudico io il topolino e gli do un otto andiamo all'ultimo c'è al primo posto medaglia d'oro ma anche questa storia singola va alla storia va la storia paperino e l'altruismo zoologico scritta da riccardo pesce disegni e chini di massimo fecchi colore di martina andonova perché perché io paperino lo amo è la classica storia questa appunto solitamente queste storie impittive spesso sono solestane in questo caso è italiana il classico qui una storia molto carina di questi animaletti che trova questi lucidatori di monete chiaramente i soliti sì che molti dicono ah ma guarda sì la solita storia del paperino e lucidare soliti disastri lozioni che sarà però io signori miei sono ripetitivo sarò antico ma io amo queste storie quindi a questa storia io do non posso dare ovviamente dieci ma do un nove tondo tondo do un nove tondo tondo quindi mi è piaciuto anche perché questi animaletti con queste curiosissime vedete qui code a diciamo a spazzola che poi ecco leggetela perché capirete poi perché lozione come al solito si arrabbia e paperino ne subisce sempre quindi c'è paperino paperina i nipotini e io ripeto il topolino è una garanzia almeno finora perché so che ci sono queste storie qua ha ovviamente poi c'è interessante anche tutta la storia sulla nebbia delle varie città quelle più nebbiose a partire da san francisco londra c'è questa tutta una intervista c'è tutta ecco di la nebbia addirittura che al san francisco chiamata card fogg la capitale nebbia londra dubai milati arabi la sciglierà che la sarebbe la nebbia milanese prestano che non hanno parlato della nebbia proprio della del po lesine della delta del po e quella veramente è anche abbastanza anzi senza abbastanza molti inquietanti e ai poi ecco dopo la scrive l'automa auto apprendente la storia quella commessa al secondo posto sulla intelligenza artificiale su tutto quello che può farlo i computer i sviluppi progressi dell'intelligenza dell'ia intelligenza artificiale insomma che dire facendo una somma sì questo è un buon numero ripeto storia degli evaporati se era fatta in meno storie sarebbe stata sicuramente meglio però nel complesso questo è un numero un buon numero che promuovo ecco ritorno a dire peccato questa questa io dico orribile strillo ecco vedete così sarebbe stato molto meglio sarà tutta tutta in terra ma va bene ormai questa è una dinamica della della casa editrice va bene con questo io mi sono anche dilungato troppo vi ringrazio vi saluto e vi auguro una buona serata ciao a tutti